La violinista Isabel Fausta, protagonista al Teatro Petrarca dell'ultimo appuntamento per Arezzo Classica, la rassegna dedicata alla musica sinfonica e da camera voluta dall'amministrazione comunale dalla Fondazione Guido d'Arezzo e realizzata con la Casa della Musica. Abbiamo avuto tra i nostri protagonisti l'orchestra di Santa Cecilia, i virtuosi della Scala, il maestro Canino e non potevamo chiudere che con una grandissima violinista di fama internazionale, quale Isabel Fausta, interprete eccezionale in tutte le platee, infatti onoratissimi di averla ad Arezzo, ospite delle più grandi orchestre, dai Berlina fino al Moniker, con i più grandi direttori, addirittura Bado ha collaborato, per cui credo veramente un grande, grande onore per Arezzo. La musicista tedesca ha proposto al pubblico aretino la sua esegesi interpretativa della scrittura bacchiana ad accompagnarla in questo viaggio La Bella Addormentata, uno a strade vari del 1704. Mi piace cercare di andare al fondo della musica che suono, può essere la musica antica, può essere la musica contemporanea, dipende sempre dell'epoca dove si deve cercare, come si deve cercare. Qualche volta ha senso per me di sperimentare con altri tipi di strumenti, con violino barocco, con archi barocchi o classici, dipende dalla musica che suono. Per me è sempre un modo, una necessità e una curiosità di andare al fondo del compositore, andare più vicino, avere più indicazioni come questa musica dovrebbe forse essere interpretata. Grazie.